Ok, inizia. Inoltre? Non sono pronta prima, ora parlo. Sì, sì. È pronta? Sì. Sono ritornata qui, sul Nilo. Se penso che l'anno scorso ero qui, e da quello che si può notare non sapevo dove fossi e stavo cercando il grande albero. E sono davvero emozionata perché rifacendo oggi questo percorso è come se avessi avuto davvero tanto coraggio a venire qua in questo posto e sapere che avrei trovato qualcosa che in un certo senso era difficile da immaginare. Quindi al momento mi sono fermata qui perché quello che si può vedere... Aspetta un attimo che prendo la telecamera... È questo. Quindi... Il percorso è più o meno a metà. Quindi avevo fiducia comunque di sapere quello che stavo cercando perché il richiamo era davvero forte. Quindi... Allora...